Rechietta confermata, vedezze alieni, ricarico, ricarico, gradita, gradite, rilascio all'amilia, ricarico, 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 rifornimento in arrivo, dice ciao alla democrazia, per tutti, ricarico. Ricarico, 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 gradita, ricevuto, ricevuto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ricarico. Ricarico. Consegna equipaggiamento, ripeto, consegna equipaggiamento. Ricarico. 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 Carico. Granata. Fuoco sul dettaglio. Ricarico. Ricarico. bisogna parla. Ricarico. Tocco. Arte a d ram. Ricarico. 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 Lancia granata. Ricarico. Veletze alieni. Carico. Ricarico. Ricarico. Per la libertà! Ricarico! Carico! Attendere equipaggiamento in arrivo. La granita è un attaccino di libertà! Ricarico! Raccami la libertà! Carico! 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 Ricarico! 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 Servono munizioni! Ricarico! 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 Valedessi andieri! Ricarico! Ricarico! Granata! Ricarico! 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 La libertà non dorme mai! Ricarico! 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 Carico, 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 ecco la libertà, carico, sì, ricarico, 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 affermativo. Distrazione confermata, shuttle in arrivo d'equipato a un viaggio in 30 secondi, vateglielo a vedere, carico, ricarico, 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 fredde, carico, consiglio equipaggiamento, ripeto, consiglio equipaggiamento, carico, 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 Tempo un minuto, ricarico, 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 ricarico. Attendere! Mancano 30 secondi! Fuoco in arrivo! Attazzo aria o via vivo! Ricarico! Ricarico! Tempo stimato richiesta confermata! Lascia di la mano a carico! 10 secondi all'arrivo! Richiesta confermata! Tempo 5 secondi! Ricarico! Carico! Chattoli in arrivo! Ricarico! Rifornimenti in arrivo! Dice ciao alla democratica! Fuoco sul testaggio! Passo! StarCareFatoo! FAMO countdown! FAMO countdown! Grazie a tutti.